buonasera buonasera a tutti ragazzi scusate il ritardo ma mi sono dovuto trattenere un pochino in live perché come sapete no quando in napoli pareggio perde i topi escono dalla fogna e questi topi sono i classici che dicono eh vincerete tra 33 anni eh avete una squadra di sopravvalutati Kvara Osiman non vedono l'ora di andarsene Osiman è sopravvalutato Kvara è sopravvalutato questo è quello ai soliti commenti dei rosiconi che ogni volta che vedono in napoli ricordano ciò che abbiamo conquistato l'anno scorso e rosicano peggio dei castori ma va benissimo così comunque bologna napoli 0 a 0 io onestamente ero molto catastrofista per questa partita però Garcia ha impostato bene la partita bisogna dire le cose ragazzi io non sono per per partito preso io non ho il prosciutti davanti agli occhi il paraocchi come cavalli mi fisso con un'idea e dico Garcia Sanadai Garcia fa schifo Garcia qua Garcia sbagliato Garcia qua non sono così però vinciamo pareggiamo perdiamo io la critica la devo mettere se una cosa o più cose non mi sono piaciute ok Garcia al di là del fatto che oggi ha messo una bella squadra sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista mentale ma questo è anche sia grazie a Garcia che anche a molti giocatori che nelle partite precedenti camminavano mentre oggi hanno dato il loro hanno dato mentalità hanno dato forza hanno dato freschezza hanno dato ciò che nelle partite precedenti non avevano dato o l'avevano dato ma a mezzo servizio ok e è un pareggio che brucia pareggio che brucia un pareggio che c'è da recriminare tanto c'è da recriminare tanto allora il Napoli tatticamente è stato buono difensivamente bravo pulito senza quasi mai rischiare sia nel primo tempo che nel secondo tempo c'era quella paura stile braga ovvero ottimo primo tempo e secondo tempo un po' anomalo un po' difensivista e conservativo però il Napoli è rimasto sempre su quella scia sempre sull'attenzione sempre chiudere linee di passaggio sempre sacrificarsi sempre aiutare l'uno con l'altro insomma il famoso gruppo un gruppo che oggi ha funzionato ma che è stato inondato dalla sfiga tra il palo di Osiman tra cross sbagliati di Kovara Schella però ragazzi al di là delle critiche a Kovara Schella che ho già sbagliato eh ma amore Dio ma ragazzi Kovara Schella ha giocato bene per me eh per me ha giocato bene cioè rispetto a Braga che l'ho visto in crescita ma sta iniziando a crescere un po' di più gli manca il gol però almeno ha tirato un paio un paio di volte per quanto mi riguarda e deve essere un po' lucido un po' lucido un po' più altruista ok questa è l'unica critica che voglio fare a Kovara Schella però dal punto di vista tattico Garcia mi sta bene in campo e lo ripeterò sempre fino a domani del giorno dopo e Garzia mo come ho detto Garzia quando merita le critiche le merita io non sono per partito preso e tutto resta preso ma porca troia caro Ludic Garzia due cose due due cose uno lo sai che hai cinque cambi e se lo sai perché usi il terzo slot all'ottantacinquesimo seconda cosa Lindstrom che ti ha fatto? ha scopato con Mujeret che ha fatto? buco che lo sai che ha fatto? cioè l'unica volta che lo hai messo lo hai messo in una maniera forzata ovvero con la Lazio una partita complicatissima una partita nel cui tu lo hai messo in passo ai leoni e giustamente molti hanno detto dopo quella partita dopo quel tiro sbagliato di Lindstrom è sopravvalutato è qua è là è piripicchio è piripacchio non va così cioè sto ragazzo quando gli dà un po' di fiducia in più ma pure Cajuste da titolare quando gli dà un po' di fiducia con l'Udinese lo spero entrambi lo spero Nathan mi è piaciuto non era facile esordire perché Bologna non era facile come non era facile creare sintonia con Ostigard ma per quanto riguarda me la fase difensiva mi è piaciuta la fase difensiva io l'ho vista un po' troppo meccanica alcuni giocatori un po' troppo egoisti un Raspadori che ragazzi a Raspadori lo voglio bene Raspadori è il mio pupillo chi mi segue da diversi anni lo sa che io l'ho messo nel mercato che farei nel 2021 ma Raspadori non può fare l'esterno destro Garzia quando lo vuole capire è sempre tardi ha giocato benino con Frosinone e Sassuolo come esterno sinistro ma non può fare l'esterno lui non è un esterno è un trequartista porca puttana infatti quando Raspadori ha giocato centrale ha creato un'occasione da gol va bene pazienza Quaiù camma fa poi ma nel complesso ragazzi pazienza c'è da mangiarsi le mani però si vedrà si vedrà mercoledì comunque io vedo un Napoli che pian piano sta crescendo qua bisogna dirlo qua bisogna dirlo che Napoli sta crescendo pian piano sarà in ritardo di condizione sarà che forse il gruppo e Garzia si siano parlati e non lo so però dopo Braga io vedo un Napoli che come prestazione è migliorato non è arrivato il risultato tra palo tra rigore sbagliato e qua mi voglio soffermare mi voglio soffermare caro Osiman che cazzo fai e qua a parte l'incazzatura qua Osiman che cazzo fai il rigore non è inquadrato manca la porta punto uno punto due perché fare le solite scene da bimbo minchia del cazzo perché 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 vuoi essere vuoi tornare lo stesso Osiman bambino cocciuto piangina perché cioè quello Garzia ti sostituisce ti sostituisce e che fai fuocchio 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 allora tu hai preso il palo e hai sbagliato il rigore un allenatore può avere santo diritto di avere le sue idee poi sarà il tempo a dire se le ha fatte belle azzeccate o se le ha fatte sbagliate sarà il tempo a dirlo ma come cazzo ti permette dire all'allenatore metti 4-4-2 tu non sei l'allenatore non sei un allenatore ad oggi non sei un allenatore forse lo sarai in futuro ma tu ti stai zitto perché già hai sbagliato un rigore e se Garzia forse Garzia gli è pure gli è pure come dire è sfiorato l'idea di un 4-4-2 o di un attacco a due punte perché l'attacco oggi è stato abbastanza sterile a parte qualche giocata singola non c'è non c'è stata un'azione corale di gruppo ok gli è pure sfiorato il pensiero però può essere pure che ti ha visto come abbiamo detto in live discontinuo nervoso incazzato non lucido e quindi ti ha fatto uscire dopo questa uscita Osiman meriterebbe la panchina con l'Udinese e far entrare e far giocare Simeone che vederlo sempre negli ultimi 5 minuti mi mette tristezza perché Simeone fidatevi se lo mette in titolare almeno due golli fa oddio due esagerate ma almeno uno che cazzo fa cioè Osiman non si deve comportare così qualcuno dice qualcuno dice no spogliato io spaccato spogliato qua spogliato là ragazzi no assolutamente no comunque vediamo cosa succederà mercoledì poi sicuramente quello Udinese non è facile come non è assolutamente facile con il Leach domani ovviamente come sempre Pagellone non si poi ovviamente poi dopo mi vedrò il posto partita di di Garcia al di là del fatto che silenzio stampa prepartita con l'Udinese e Lecce non lo faranno però vedremo cosa cosa avrà detto nel posto partita spero che ha risposto a una domanda riguardo Osiman ragà forza Napoli sempre al di là di tutto al di là delle critiche al di là dei dubbi eccetera forza Napoli sempre ci vediamo domani con il Pagellone ciao a io Ciao a io